Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ragazzi Frosinone Atalanta 0-5 Clamoroso poker di Duvan Zapata Che raggiunge Cristiano Ronaldo nella classifica Marcatori 14 reti anche per l'attaccante colombiano Che veramente in questa sezione ha iniziato a fare gol in ogni partita E oggi ragazzi un clamoroso poker al Benito Stirpe Incredibile, incredibile Un gol nel finale del primo tempo e poi una tripletta nel secondo Un poker clamoroso come i grandi che hanno fatto solamente i grandi attaccanti Perché un poker in Serie A veramente non si vede da tantissimo tempo 4 gol per Duvan Zapata E quindi è il grande protagonista di questa giornata di Serie A Ormai la partita sta per giungere al termine Siamo già nel recupero di 3 minuti concessi di questa partita Che sono veramente alla fine poco, che non servono quasi a nulla Perché ragazzi 5-0 dell'Atalanta in questo anticipo, in questo launch match Della prima giornata di ritorno Finisce in questo momento Frosinone Atalanta 0-5 Le marcature sono state aperte La partita è stata aperta dal gol di Mancini Questo difensore con il vizio del gol Ragazzi l'Atalanta è veramente in forma L'Atalanta è in forma perché ragazzi è un attaccante Che segna in ogni partita E oggi un poker clamoroso di Duvan Zapata Duvan Zapata grande protagonista 14 reti in campionato come Cristiano Ronaldo Che quindi viene raggiunto in classifica a capocolonieri da Duvan Zapata E l'Atalanta che in questo momento ha 31 punti in classifica È sesta, è sesta l'Atalanta Quindi dopo l'avvio difficile è riuscita a recuperare E adesso è nelle grandi posizioni Quelle che contano per l'Europa Quindi non solamente in Europa League Ma potrebbe anche essere una grande protagonista Per la prossima qualificazione Per la prossima Champions League Perché ragazzi la Roma ha 33 punti L'Atalanta ha 31 Quindi sono due punti di differenza E non si sa mai, non si sa mai Cosa potrebbe succedere quest'anno a Bergamo Con questo attaccante Duvan Zapata Grande protagonista Un poker come i grandi attaccanti Sanno fare Perché ragazzi se si segnano 4 gol in una partita Si è veramente grandi, grandi protagonisti Quindi ripetiamo il finale al Benito Stirpe Frosinone Atalanta 0-5 La formazione di Gasperini Grande, grande protagonista di questo launch match Apre Mancini e poi i 4 gol di Duvan Zapata Uno nel finale del primo tempo E poi la grande tripletta nel secondo tempo Che ha portato questa larga vittoria In casa E Bergamasca Invece per il Frosinone Una sconfitta pesante Una sconfitta pesante Perché Si devono cercare di fare punti Per la salvezza E questa sconfitta Per la squadra di Barone Di Barone È veramente molto molto pesante 5 gol in casa Al Benito Stirpe Non si dovevano prendere Non si dovevano prendere Invece una sconfitta Veramente molto molto larga Per questo video è tutto Vi ringrazio per l'attenzione Lasciate tantissimi like Iscrivetevi al canale E seguitemi anche su Facebook E insomma noi ci vediamo In un prossimo video Grazie